Il jungler è un armbashoflainer E l'abbiamo pure vinta quelle partite lì, è quello da quello strano Io ti riporto tanto per Fk Ti riporto per sabotaggio intenzionato Che sta in base, vedi, lì sa l'arma a muoverti, sabotaggio intenzionato Gideon che ride e si sollazza Fai mid Eh si, vedo che è quello che è più alto anche di livello, no? Eh, ho giocato per un po' anche Greystone, non giocavi? Eh Greystone è troppo bello, cazzo Non ti piace? Niente c'è Perché? Ah, per il fatto che ha due vite, tu dici? A me Greystone mi piace un sacco, a dire la verità, comunque Vida quando ci sei per trovare, ho capito Boo, eh Se non vedo, non sto giù, no? Ah, c'era Boo? Eh si, ma scritto adesso Noioso Greystone? Vi darò massimo un po' di qua quando c'è Eh, appena posso si Sì, sì Sì, sì La ricollo un attimo Anzi no, non ho ricollo Ok Sì Recalling, per me Se volete farvi il batte, portatevelo Eh Siete stati golosi Siete stati golosi? E la... la golosità Aurora si è fatta il buff a sinistra e Space lo fa meglio a destra Ok Eh, non ho proprio fatto i buff Eh vabbè, anch'io io sono dovuto ricollarti Ho voluto più che altro Un po' di Mardofluruma è un po' di Matteo Molto bene C'è la nostra Aurora? Oh no, è vero, ce l'hanno pure loro Aurora Stavo se stessi facendo un'autocritica Non ce l'ho Stavo Boh Un po' di Mardofluruma è un po' di Mardofluruma Ragazzi, loro Mardofluruma è più maronno No, è Aureedo dì la con fei È Aureedo, ce l'ho freghiamici Ci giocavamo una volta ieri, non so se te lo ricordi se non sbaglio non era neanche tanto male io mi faccio le cose fra dieci secondi bravo io faccio quell'altro io a sinistra è un viola andiamo a sinistra qua com'è però mi sono visibile ci stanno seguendo tutti ora prendiamo ora ora la prendiamo si dai dai questa data propria niente mona 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 marco marco andata parto che qua si stava regolato raro perchè sta sento ai io sbloccavo la ultima la ricordo un attimo da qua il buff di sinistra se lo sta facendo a Auredo, quello di destra se lo ha fatto a Aurora Aurora è qua al centro occhio là a sinistra che può darsi che ci vada a Auredo occhio è riafequa la loro Aurora? molto bene occhio vi arriva Aurora a destra ok 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 Oh, al centro o qua? Guarda, ho furia a destra Guarda, ho ricollato al centro Occhio a mid perché? Non c'era nessuno? Ah, ok, ok, no, perché cosa ricollava? Ah, vabbè, morito Perché era il momento di pushare un po' Buono Ah, buono C'hai del oro, eh? Che buffo fiume, è andato dietro, dietro, dietro Arriva, arriva Ah, cazzo, ho preso l'unico appena dietro Via, 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 via Te copro, via, via No, Aurora Tutti i miei buff Occhio, occhio, che arrivano Uh, guarda la per Aurora Che a tiro di schioppo, eh Vieni più vicino Vieni più vicino, Aurora Vieni più vicino che così ti prendo Eh, ecco, brava, brava Così, no, un po' più avanti Uh Tanti minion qua Vado io? Vado io ancora? Sì, 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 però Sì, è vero che arrivo pure io Aspetta, eh Aspetta, aspetta, aspetta da fargli entrare Sì, no, non avevo capito Non avevo capito Davide che aveva detto così Pensavo di andare tutti e due Facciamogli entrare Vai, è vero Vado su phase, eh, però Ah, quale ho fatto quelli fanno sempre questa cosa Eh, sì No, ma sono usciti Sì Onde è? Non lo so Sì, sì Ma c'ha Ah, c'ha lo scudo, la puttana Phase mid Sì Ottimo, lo vedo, c'è di cosa dietro Guarda, guarda Un po' c'è il counter Ti ha tirato l'ultimo, forse a babbo? Forse sì Forse senza ultimo, però Io non ho mano Non ho poca vita Spero Sì Eh, io arrivo ma ho solo attacchi base, eh Guarda, va bene La grabbi? Va bene, va bene Uh No, l'avevo tirato e c'è un cooldown qui dietro Ok Ricollo Andando a prendermi roba I Ah E È Andando a prendermi roba Da basso il fiume, si, guarda quella sinistra, guarda quella sinistra, eh, buono, io sto su questa mida e te la frizzi, io mi faccio goloso, fuori torre, dai 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 dai, cavoreto, via qua, via qua, io, qua, qua, qualcuno, che c'è l'accountess? ah, via via via, via via, via via, via via, minchia, guarda i miei miei, guarda i miei miei, ahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Matthew Messie, l'ultima con il colpo di torre, li ha preso, buono. ahahahahah, tutti dentro. beh sì, l' ultima è morta perchè è rimasta sulla torre perchè c'aveva un minion dietro, e non riusciva a saltare ed è arrivato l'ultimo colpo di torre sulla schiena. e come corso l'教ora sta santo attacco? Pimaronno ragazzi, Pimaronno. Adesso arrivo. Arrivo da sopra. Io. Destra. Sì, sì, sì. C'è da mettere in slowpush. Tanto per mettere in slowpush basta uccidere il ranger dietro, no? Giusto? Sì. Ma basta? Sì. Là, Mardok. Uuuuh. Dai, dai, che ti faccio scappare. Buono. Anche se qua stanno tutto torri. Oh, ma sai. Sì. Il kebab? Il kebab? È tutta gente dietro che ti insegue, però. Eh, sì. Sto continuo, eh. C'è il rosso, è convinto da ammazzarti. Ci soffi io, però. No, cominciamo a muovere. Oh, ma... Ti soffi io, stai da ammazzarti. Ah, lui lo l'ha, un piste? Ok, c'è Fazeley. Ce ne va. Ok, c'è anche Mark. Countess, countess qua, via, via. Quanto di corso. Countess ha mica messo la carta di invisibilità. No! Cosa c'è la loro countess? mazzo rosso rosso blu no rosso nero ok sto tremendo 4 sto pure io con groups questa roba che è messo da qua anch'io c'ho ulti anch'io eh si però no se vengono andiamo su un mardoc ecco quello ha spiegato il salto prendiamo dai 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 ola fatto da uffia mardoc 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 ragazzi allora lì come ti chiappo tutto eh si sinistra vabbè io faccio centro andrà l'offa sinistra no vado io vado io vado io vado io vado io mi prendo qua e vado ah ok ok allora l'ho aiuto famiglia ah ok ok allora l'ho aiuto famiglia ok andiamo dietro ok andiamo dietro guarda l'ho che succedeva questo chi è che è rimasto lì? oh 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 vieni qua rallento rallento rallentata con la cascata vieni via voilà buono e ricollo al volo uh t'ha preso? no? non la possiamo anche me occhio a destra occhio countess che fa il giro eh si deathcrawler dai dai deathcrawler dai mmm arrivo mid arrivo mid vabbia il ferro prima ne vanno la guarda la che comete sulla bocca che ti piglia oredo guarda l'occhio eh sta arrivando si si oh mi son salvato come mi son salvato io pure ho l'ultimo grux io ricollo l'arrivo lì ok aspetta allora pure il del clore quindi qua si chiappo di clore eh si io questo ah non viola non viola non viola non viola non viola nero c'ho l'ultimo pure io buono nero d'oro eh si io c'è sto qua anche io eh sono qua sopra la torretta io ragazzi eh mi posso lanciare? mi lancio? mi lancio eh? si eh 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 no guarda la IEI eh guarda la mia cascata però no guarda tutti noi se le ha mangiate oh anche se ho avuto la cascata guarda qua Aurora Aurora che vuole rimanerci malissimo No, quella è mia, eh Quella è mia Pam Tauntes Tauntes Pam La mia cascata fa la mia No? Allora con questa Pam Che c'è Marduk? E Marduk? Marduk cosa fai? Lo lasci la così No, guarda che mi sto tutto No Fuori, fuori, fuori La ultima Vai via via Buono, ottimo lavoro ragazzi Pari col Lazio Attacca il fango Attacca il fango Oh, ci stanno in allone Solo Marduk No, è ora, ora Quattro Ok, se ne sono andati No, ci stai No, ci stai No, ci stai No, ci stai Andati a sinistra Su Gimbi Sì, sì Se scendono sono morti Ah, palisce Scendete, scendete Oh, e tu? Questa è morta È morta? È morta? Sì, è morta Ah, sì, sì Facciamoci il Fanto No, ce n'è solo uno morto, vero? Sì A destra Si sta facendo a destra Trovo qualcuno l'hanno a destra Arrivo dal Fanto La mia velocità di attacco Un colpo ogni mezz'ora Cosa che paghe Cazzo Occhio, occhio Cagà un tesla D'azza Sì, è il verso del pollo Gardino in fuga 30 secondi Vav del fiume Oro Tutte cose Allora Allora, due c'entro Uno là Non si vedono in due Io prendo il buff qua a destra Io prendo quello a sinistra Guarda là, però, a sinistra Sì, sì No, no Aspetta, che mi faccio prima il buff Il blu ascio Ma quello usa la cava Mi sento che è solo Mardok Allora, andiamo su Mardok Io corro Ho sparito Uno morto, uno morto Il centro Lo possiamo fare No, no C'è Countess C'è Countess Occhio Che c'è Countess No, siamo in tre Aspetta, aspetta Aspetta Guarda là Eh, ho dovuto prendere Perché c'era Countess Ragazzi Mardok, Mardok Qua Tutto torre Oh là Dai che la prendo io Con la cascata Sono arresi Perfetto 20 minuti forse Una cosa del genere Perfetto Precisamente Mi piace Allora 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 Grazie a tutti.